Giorgi Calciano, una tattata di campione mira europea e alpisti mini, il primo a sconfoto di Canada. No, 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 no! 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 No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Il cattore di Catticcio Catticcio di Lofar, Abel Arsnerian, Caganto Camminian, Armenia Dimoshes, from Poland. Grazie. 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 La salteaua a invinge Kerem Kamal, Turcia. The main A winner is Kerem Kamal from Turkey. Grazie. Grazie.